supponendo che si batta l'Inter e si arrivasse addirittura a gennaio da capolista la Juve come ragionerebbe sul mercato di gennaio cioè io chiedo la risposta prima Simone di come si aspetta il tifoso il tifoso è colui che comunque vuol provare l'ebrezza di provare a vincere immagino cosa si aspetterebbe gennaio poi chiedo alle menti un po' più razionali se c'è questa b se c'è esiste questo bivio oppure no o vedete una società rigida da questo punto di vista vediamo prima Simone poi Leo e Davide darei una duplice risposta da tifoso mi aspetterei che ci compri il centrocampista che tanto ci serva però quello di qualità cioè non il figurativo per avere uno in più da far ruotare visto che comunque adesso siamo senza fagioli e Pogba quindi non so se sarà il che affianturamo il depolo quello che decideranno loro assolutamente da tifoso mi aspetterei questo da azionista invece temo una cosa diversa nel senso che comunque l'obiettivo dal punto di vista bilancio ricavi è andare nelle prime quattro per cui è sufficiente qualificarsi alla Champions vincere lo scudetto dal punto di vista azionista quindi bilancio non cambia più di tanto anzi probabilmente cambia in peggio perché ci saranno da pagare i primi scudetto temo che non ci sarà questa aggiuntina di disponibilità al budget per provare a vincere lo scudetto temo questo allora Nablito c'è ancora il dubbio che Pogba sia eventualmente ancora ruolabile per la stagione in corso no almeno non che io sia io non ho certezze su quello che stia accadrà a Pogba che sta provando una conciliazione per arrivare chissà dove a ottenere forse non più di un anno ma queste sono questioni che tra l'altro sta prendo anche così tanto tempo il discorso del deferimento che che vedo che anche tanti colleghi non azzardano neanche più si aspetta deferimento si aspetta di capire se c'è un patteggiamento no eccetera eccetera intanto Quadrado non recupererà per dalla tendinite per presenziare all'Allianz Stadium lo dico perché ovviamente è uno degli ex ma era nell'aria ve l'avevamo già detto credo nella giornata ieri l'altro il discorso invece su cui volevo volevo tornare è quello della domanda dell'amico no? Allora Davide Leo Leo Davide chi vuole partire cioè se arrivi primo dopo Juve Roma del 30 del 30 dicembre? Io credo che la Juve stia sovraperformando rispetto diciamo a forse le aspettative credo anche di molti molti di noi tifosi e quindi come stiamo dicendo si trova lì che se per caso riusciamo a vincere domenica sera siamo primi poi subentrano delle dinamiche anche dei tifosi ma forse anche nel gruppo dirigente un po' diverse io mi aspetto mi aspettavo e continuo ad aspettarmi una finestra di mercato ispirata alla prudenza come quella passata. Prudenza finanziaria non tecnica? Sì prudenza cioè di non aspettarsi del gran coach cioè il che è Frinturam io dal punto di vista tecnico se costa 50 milioni ma non lo so me lo dite voi faccio fatica a immaginare alla Juve che partecipa all'asta ammesso che ci sia per che è Frinturam. Quindi mi aspetto molta prudenza finanziaria però con gli occhi aperti perché magari può esserci qualche opportunità diciamo un po' sopra il livello della cosiddetta prudenza e la Juventus magari può esserci una cosa simile a quella che successe due anni fa quando arrivo a Vlaovic cioè forse nessuno si aspettava di essere lì di poi portarlo via in quel modo nella finestra di gennaio tra l'altro con un'operazione oggi un po' criticata perché a parte il cartellino ma anche lo stipendio era ed è elevato ed era crescere quando magari invece le prestazioni del cacciatore non stanno cioè non escluderei proprio a priori di essere presenti su qualche tavolo di qualche colpo diciamo così non so ma io penso Leonardo la vedo la vedo come te sicuramente sarà prudenziale perché quest'anno l'ordine credo sia quello di valorizzare i giocatori che ci sono in rose il più possibile quindi ovviamente se sei primo vuol dire che hai anche trovato una chimica una dinamica di spogliatoio tecnica che eviti di andare a rompere per effettuare investimenti che poi vanno a caricare anche di di ansia il giocatore che arriva o che rischiano comunque di andare a guastare l'equilibrio che che si è trovato secondo me ci sono due tre giocatori che non sono ancora stati adeguatamente utilizzati vuoi perché giovani vuoi perché devono ancora magari trovare una posizione che gli permetta di entrare fissi nelle rotazioni penso a il Diz e penso a Eiling Junior che sono diciamo i due giocatori il Diz in rampa di lancio Eiling Junior che a inizio stagione tutti speravamo avesse più spazio invece sta facendo fatica a trovarne quindi io prima magari di affacciarmi sul mercato per andare a fare dei grandi colpi aspetterei io vedo più una Juve opportunistica cioè tanto per fare nomi e cognomi se c'è la possibilità di prendere in prestito con diritto di riscatto e con stipendio pagato dal Manchester già Don Sancho mi aspetto che ci possa essere questo tipo di situazione se tecnicamente viene considerato ovviamente un giocatore funzionale alla squadra o per a te piace l'idea a me il giocatore piace molto quello di Dortmund bisogna vedere se non va a pestare i piedi ad esempio anche Nani il Diz io il Diz cercherei di visto che nazionale gioca già con i grandi e ci gioca bene quindi è il suo campo io spero che il Diz cerchi di prendere sempre più spazio in questa Juve anche perché è un giocatore di fantasia che probabilmente ci manca in questo momento quello che invece tengo sempre sotto controllo sono questi 10 milioni anni tra ammortamento e stipendio che diamo a Pogba dobbiamo considerare che il decreto crescita non c'è più e davamo a Pogba e davamo a Pogba che però appunto sono sono lì è già in sospensiva quella roba lì sono 10 milioni disponibili che di fatto non impattano sul bilancio e che metteremo sotto la colonna risparmi li mettiamo nel porcellino quelli caro Burani si si li puoi mettere nel porcellino puoi decidere di utilizzare in una parte e poi l'altra cosa da considerare quando si andrà all'estero è che non c'è più il decreto crescita quindi attenzione perché il moltiplicatore diciamo dello stipendio non è più 1,33 ma è 1,82 quindi che sia italiano che sia all'estero che abbia diritto ma anche su questa cosa c'è c'è un piccolo giallo mi dicono perché in realtà il decreto crescita ci sarebbe ancora il che so io è valido fino al 31 12 2023 però mi potrei sbagliare ma non è stato non è stato poi pare che c'è c'è tutto un giallo ragazzi c'è anche il giallo della superlega ne parliamo tra poco quello è il final 21 dicembre va avanti col giallo 21 20 attenzione allora il 21 dicembre non prendete impegni perché vi ricordiamo che ci sarà ci dovrebbe essere ecco diciamo il pronunciamento dell'alta corte giusto no ci sarà perché c'è stata la notifica c'è stata la notifica Burani poi allora tieniti libero il 21 e poi vedrai se ci sarà però se posso due minuti sul tema mercato ma in ottica finanziaria per esempio e io vedi ma e una nella chat diceva healing è chiaramente in vendita secondo me l'approccio che dicevo prima c'è un approccio ancora prudente ma attento alle opportunità secondo me lo è anche alle opportunità di vendita in questo senso il in giugno che a me ha impressionato enormemente come a tutti nelle apparizioni l'anno scorso ma non sta trovando spazio lascio la parola ai tecnici ma probabilmente perché se no nella testa di Allegri romperebbe quell'equilibrio giusto o sbagliato che sia non lo discutiamo cioè non gli trova una posizione in cui sfruttarlo no ecco se il modulo rimane questo se l'idea rimane questa se quindi da qui a fine anno non troverà spazio secondo me arriva l'offerta da 20 25 milioni cifre buttate lì ma insomma forse neanche troppo e questi lo vendono e non c'è niente che possiamo fare e l'uomo di finanza che c'è in me cioè che la gran parte di me anche nel senso dice bene perché è così ovviamente se noi avessimo in panchina qualcun altro e me lo sto augurando oppure auguriamocelo pure allora sarebbe diverso il discorso ma in questa situazione allora è un altro 20 milioni che va nel salvadanaio di Luca il porcellino Simone sì sono d'accordo da un certo punto di vista con quello che stava dicendo adesso Leonardo quello che ho visto però nel recente passato e parlo del Milan contonali che hanno portato un giocatore a valori allora esponenziali allora lì secondo me ha senso in passato con Zidane aveva un senso vendere un in giugno da 20 30 milioni potrebbe essere un peccato perché probabilmente almeno potrebbe essere un giocatore che potrebbe arrivare a valere di più poi andiamo a vedere magari un orizzonte più di breve termine abbiamo bisogno di soldi è una plusvalenza è un contratto a scadenza relativamente corta è 25 attenzione perché healing come è andato via a zero dal Chelsea da ragazzo se tu arrivi all'ultimo anno di contratto ti va via a zero certo andiamo per scontato rinnovo Luca scusami due cose una domanda a te e così magari me la dici prima che vada e un'osservazione allora chi dice che giustamente il decreto crescita ancora in vigore ha ragione anche perché in legge di bilancio che attualmente in discussione al senato è stata presentata da parte del governo uno sfoltimento degli sconti fiscali per categorie di lavoratori provenienti dall'estero tra cui ci sono i calciatori per cui se passerà la misura in legge di bilancio diventerà immediatamente operativa a partire dal primo gennaio 2024 quindi seguiamo la discussione vediamo se magari il presidente lotito che è il grande manovriere in commissione in bilancio vedremo vedremo anche perché ovviamente bisogna avere le coperture così e la ragioneria dello stato difficilmente le concede in ogni caso la domanda è questa qual è questo giallo superlega così vado via poi sereno giallo superlega lo riporto così allora devo dire nel discorso introduttivo di ferrero non è stato toccato il discorso superlega che invece è stato era caldissimo sul fronte degli azionisti piccoli azionisti presenti dei tanti che hanno preso la parola i due temi forti di chi ha cercato delle risposte nella dirigenza sono stati uno non dico la complicità ma il sedersi alle voli di fronte alle o inginocchiarsi di fronte alle minacce di seferin e alle trattative con gradina questo era un tema quindi il rapporto figici tutto quello che ne consegui e l'altro tema la superlega devo dire che ferrero in sede di risposta a una di queste domande è stato poi a un certo punto molto netto e chiaro quasi ha dovuto prendere una mascherare meno questa si insomma abbiamo iniziato l'iter la procedura tra noi siamo fuori ok dai documenti però che sono in qualche modo a disposizione degli azionisti non è esattamente così quindi quello che voglio dire che la domanda era legittima di fronte a quello che si legge tanto per per intendersi sui documenti c'è scritto chiaramente che la procedura d'uscita è iniziata ma non completata e non si completerà perché il completarsi di quella procedura prevederebbe ve la dico in maniera molto dozzinale che chi riceve la tua richiesta la tua domanda la tua intenzione con un atto formale l'accetti ok con un atto formale l'accetti quindi si può ritenere completata nel momento in cui in cui immagino la dico per come la so poi davide sulla superlega so che si è molto preparato su queste cose però c'è esattamente reale barcellona formalmente accettano c'è c'è un atto formale che non è solo un quindi tecnicamente oggi la juve non è uscita dalla superlega ferrero oggi ci ha detto che l'inter non è mai entrata a differenza di tutte le altre l'ha detto oggi in risposta dell'inter non è mai ci sono state quelle che sono uscite ma ci sono anche state quelle che sono entrate l'inter non è mai entrata quindi non ha avuto davvero il problema di uscire tecnicamente poi le minacce dell'uefa se le prese anche l'inter il mea culpa persino la multa cioè l'inter pagherà la sanzione all'uefa pur senza essere tecnicamente entrata c'è una roba assurda però la juve tecnicamente non è fuori terrero però devo dire che in ultima battuta a un certo punto a una seconda o terza domanda in merito ha dato una risposta che è sembrata finalmente lo dico lo dico finalmente a livello giornalistico non come opinione personale finalmente per entoria lui ha detto siamo fuori cioè per noi che questo atto formale ci risponda o non ci risponda noi siamo fuori essere fuori dalle intenzioni della superlega che non vuol dire essere forse fuori davide correggimi da quella società tecnicamente da quella da quelle e come lo potremmo chiamare quella creatura che doveva essere l'interfaccia della superlega no c'è quella società da cui alla fine diciamolo non è uscito nessuno perché perché l'atto formale di ricezione da parte dei membri fondatori non è stato fatto quindi anche le inglesi non sarebbero uscite se la mettiamo in questi termini ma come dice ferrerò io è fuori è un giallo sapendo che tra un mese scusami arriva il pronunciamento perché ce l'ha garantito burani quindi io sono tranquillo a quel punto e se dovesse essere una risposta diversa da quella da quella che tutti si aspettano cosa succede prego davide poi ci salutiamo il mio punto è questo io non ho capito mai quale sia la società con cui è stato stipulato questo contratto accordo due non che senso la società i capitali ci sono due elementi chi organizza certo e soprattutto chi finanzia perché quando è partito il gioco erano stati sottoscritti dei contratti vincolanti con jp morgan che mi pare desse 4 5 miliardi di euro per finanziare all'inizio della competizione ora nella mia io non sono un avvocato però nella mia poca esperienza con i contratti so che quando si firmano queste cose non è che dalla sera alla mattina si dice sai che c'è ho sbagliato scusami ne parliamo per come la interpreto io ma è una mia personalissima interpretazione il gioco si risolve il 21 di dicembre cioè se il 21 di dicembre come molti la maggioranza si aspetta la 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 pronuncia da parte della gran chambre sarà a favore diciamo del uefa allora è chiaro che la partita è finita nel momento in cui la pronuncia invece non fosse a favore del uefa poi bisognerà capire a che livello di gradazione allora lì si apre tutto un altro cinema e quindi io credo che si lì in quel caso si capirà davvero che cosa è stato fatto a livello di contrattualistica e tutto quanto una cosa del genere non si fa con contratti per cui si esce in due tre ore o mandando è vero anche che però alcuni motori scusami è vero anche che alcuni non motori alcune diciamo così alcuni uffici non so all'interno di juventus che si dedicavano a questo non ci sono più quindi a questo punto a questo punto io ritengo che ferrero sia stato a un certo punto imbeccato il giusto veramente sincero alla fine il dire ragazzi noi non ci siamo e quasi mi ha lasciato intendere che per quanto ci riguarda come ferrero scanavino e questa gestione anche fosse non ci torneremo o meglio non saremo lì a fare gli alfieri di questa cosa mi sbaglio leo ma infatti poi purtroppo devo andare anche se qui ascolterò perché se parlate di juve inter ascolterò mezz'ora juve inter sparata indifferita secondo me la dichiarazione di ferrero che non ho sentito magari poi la recupero è più da leggere come noi attuale dirigenza non coltiveremo questo progetto siamo fuori dal nostro piano strategico il che non significa però che tra un anno tra due anni c'è un'altra dirigenza non si torni a coltivarlo è un po' una posizione anche opportunistica secondo me è molto politica nel senso di andare dietro a quell'ottica di chiudiamo tutti i focolai di casino detta un po' in maniera chiudiamo tutte le fonti di tensione chiudiamo tutte le aree di conflitto chiudiamo tutto il chiudibile quindi non coltiviamo più la superlega il progetto a seconda di quello che succederà il 21 può andare avanti può fermarsi definitivamente poi vedremo e staremo lì a vedere ci si augura se il andrà avanti che se devono partecipare 15 squadre europee o 20 o 12 la Juve venga supponiamo recuperata non lo sappiamo allora va bene accetto questo compromesso ci facciano fare sto mondiale per club perché noi poi 2000 da settembre 2025 nel caso ci riposizioneremo scusate io leggo un virgolettato che è un po' diverso è quello che ho letto io tutti voglio lasciare leonardo anche queste parole sei un secondo perché ferrero dice il 21 dicembre ci sarà la sentenza la juventus prenderà atto delle decisioni della massima corte europea e dopo un attento esame di questa sentenza vedremo quali saranno gli effetti li valuteremo insieme a tutti gli altri player della famiglia del calcio europeo è ben diverso ma scusa sta dicendo che le valuta con UEFA no no sta dicendo che valuteranno con i club il che significa che se danno contro la superlega è morta ma se si apre lo spazio a quel punto i club torneranno a farsi sentire a quello che sta dicendo a fare la superlega però luca se ti apre lo spazio la sconfitta per UEFA sarebbe così forte se ho capito è chiaro che non è che diciamo no noi non partecipiamo perché per per com'era perché non siamo arroganti no attenzione ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie 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 a tutti